buongiorno amici e amiche di nova news 24 un ex vipona continua a parlare di grande fratello parole abbastanza pesanti tutto finto gli autori ti dicono quello che devi fare e sicuramente la conoscete le noir ferruzzi ci è cascata di nuovo litigando su instagram con un suo hater si è lasciata ovviamente andare a nuove dichiarazioni ma cosa c'entra il grande fratello che ignoranza ha scritto ma il grande fratello per me è stato un lavoro ma come si può paragonare l'esperienza di una persona a un gioco un lavoro che ha fatto ma riprenditi ma cosa mi doveva insegnare un gioco dove sono stata strapagata per partecipare dove tutto finto e dove gli autori ti dicono quello che devi fare parole molto pesanti che hanno fatto il giro del web e non solo e poi ha continuato cosa avrebbe dovuto insegnarmi perché tu credi ancora che io sia sbattuto fuori magari con il vostro televoto è tutto pagato anche le umiliazioni tesoro ha scritto e quindi amici di nova news 24 si riferiva a quello che è successo ovviamente lei è uscita per un televoto flash aperto proprio per quelle quegli atteggiamenti contro nikita che sono stati un po pesanti amici di nova news 24 ovviamente questo ha fatto infuriare tutti quanti alfonso signorini gli autori del grande fratello che vengono accusati sempre di non mostrare una realtà di avere una scaletta degli eventi insomma amici di nova news 24 sembra che chi non può arrivare all'uva dice che acerba oppure sarà vero che qualcosa è costruito al grande fratello ovviamente noi lasciamo ogni dubbio e perplessità al vostro parere ovviamente quelle di elenoir ferruzzi sono accuse mirate dette in un momento di rabbia contro haters e non è detto che sia la realtà non crediamo che quello che dice la ferruzzi sia legge intanto diteci voi cosa ne pensate amici di nova news 24 mettete il pollice in su se vi è piaciuto questo articolo e seguiteci sempre su nova news 24 attra